benvenuti a this is my architecture io sono diego e sono qui con alessandro canzi di tribù ciao alessandro grazie di essere qua ciao diego grazie dell'invito parlaci un po di tribù raccontaci che cosa fate certamente allora tribù è una delle più importanti digital company presenti sul territorio italiano siamo leader nei nostri settori di competenza te ne cito sicuramente un paio il primo è quello dell'advertising in media dove siamo sicuramente tra i top player grazie anche alla gestione di quasi una cinquantina di siti proprietari e il secondo è l'e-commerce nello specifico l'e-commerce service provider dove diamo un servizio in full outsourcing per la gestione di uno store online oggi di che cosa ci vuoi parlare oggi parliamo proprio di questo secondo esempio dell'architettura di un'esp quindi di un e-commerce in particolare questa è quella basata sul framework di magento quindi puoi guidarci un po nell'architettura che avete scelto certamente allora partiamo sicuramente da route 53 route 53 ovviamente non gestisce solo i domini esterni ma anche tutti gli fqdn interni quindi le chiamate tra i vari servizi da route 53 passiamo ovviamente alla parte di web application firewall oltre a web application firewall abbiamo anche sistemi di anti anti ddos e anti bot successivamente entriamo all'interno di cloud front cloud front non è utilizzato solo come sistema di caching sull'edge ma anche attraverso i behavior per pilotare il traffico in questo caso lo pilotiamo o direttamente verso s3 per le chiamate ad elementi statici come possono essere le immagini oppure le chiamate finiscono sul load balancer quindi su una coppia di istanze c2 quindi un load balancer di che tipo in questo caso utilizziamo un load balancer proprietario si chiama pass secure abbiamo deciso di utilizzare questo load balancer perché fa parte dell'architettura di tribù da quasi dieci anni abbiamo lavorato molto abbiamo sviluppato molto su questo e quindi abbiamo deciso di portarlo all'interno di ews quindi dal load balancer vedo kubernetes e ks sì allora il load balancer insiste su e ks come puoi immaginare inizialmente utilizzavamo anche noi istanze ec2 ma dopo rilascio di eks abbiamo fatto subito tutti test necessari abbiamo investito molto su questo aspetto e ovviamente ha portato notevoli miglioramenti nella gestione dei nostri oltre 100 store che gestiamo all'interno dell'account quindi come puoi immaginare la flessibilità che ti dà un ambiente basato su container è molto superiore rispetto a quella basata su ec2 banalmente la segregazione del traffico di utenti che sono solo in consultazione sul sito piuttosto che quelli che acquistano è molto importante molto facile attraverso e ks poi vedo tanti altri servizi qua come la stick cash la stick search sì allora il primo sicuramente amazon aurora noi utilizziamo lo stack lo stack di magento è basato su lampa quindi my sequel abbiamo fatto diverse prove con aurora e le prestazioni sono state eccellenti abbiamo deciso di adottarlo inoltre ovviamente ci sono tutte le funzionalità a corollario tipo la georeplica piuttosto che il point in time restore che in un paio di occasioni è stato davvero vitale per noi ecco elastic cash sicuramente utilizziamo elastic cash come cash applicativa e per la gestione delle sessioni di navigazione utilizziamo elastic search per l'indicizzazione delle delle ricerche ancora bucket s3 per la proiezione di elementi statici e anche per la gestione dei logs e in ultimo ancora un'altra istanza c2 per l'nfs utilizziamo sia ifs di aws ma abbiamo anche delle istanze nfs gestite direttamente da noi vedo anche altre icone qui sotto sì abbiamo un istanza c2 è utilizzata come main server abbiamo preferito gestirlo autonomamente abbiamo redshift per la bi utilizziamo lambda le utilizziamo sia per attività di configurazione piuttosto che per monitoring e alerting e infine abbiamo la vpn la vpn è basata su l'ipsec della vpc di aws e ovviamente questo entry point per la gestione di tutti i servizi di cui abbiamo appena parlato state pensando anche a delle evoluzioni dell'architettura o dell'aggiunta di nuove funzionalità sì ti ho appena citato redshift come detto lo utilizziamo per la bi e tu sai bene che la bi in questo periodo la fa da padrone vogliamo investire molto in questa direzione quindi sicuramente l'obiettivo è provare servizi come amazon atina e poi stiamo testando anche le tl amazon glue perché abbiamo notato che ha diverse funzionalità che fanno davvero al nostro caso quindi volete aggiungere alcune funzionalità serverless del vostro diciamo sì sì l'obiettivo è proprio è proprio questo va bene alessandro io ti ringrazio per essere venuto qua per averci raccontato di tribù della vostra architettura grazie a voi grazie a te per l'invito e grazie a tutti per aver visto this is my architecture ci vediamo alla prossima